Porpora richiama subito ci dobbiamo vedere importante ma che felicità a vedervi e anche questo un po' donna un po' no siete pure peggio di come vi ricordavo anche come ci è venuta questa idea venivano da noi perché eravamo favolose e allora piaceva il pittingone il divertimento della prostituzione era poter gestire il proprio tempo eravamo libere dal tempo lavoro questo armadio era la nostra astronave e ci portava in mondi lontani il mio corpo è un atto politico ho scelto di essere libera e la libertà ha un caro prezzo questa è di Antonia cara Nicole ti scrivo questa lettera perché ho un brutto presentimento Antonia era di una bellezza sconvolgente di un'eleganza di una dolcezza l'hanno vestita da uomo perché credo che la sua famiglia non l'abbia mai accettata l'hanno uccisa due volte comunque la si giri eravamo tutte profondamente coscienti di essere altro e a noi andava bene così e a noi andava bene così e a noi andava bene così e a noi andava bene così